E' così indispensabile prenotare per i weekend e per le vacanze? Dipende! Adesso ve ne parlo, subito dopo la sigla! Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Weekend di Rolotte. Io sono Stefano e oggi vi parlo un po' del discorso prenotazioni. Io e Melissa non prenotiamo mai per i weekend e a volte non prenotiamo neanche per le vacanze estive. Vi faccio vedere un attimo anche come troviamo le strutture. Leggo sempre nei vari gruppi Facebook di Rolottisti il discorso di prenotare sì, prenotare no. Capisco che chi all'inizio fa i primi viaggi di Rolotte tende ad avere, a voler avere la prenotazione. Anche noi all'inizio facevamo così, che all'inizio c'è già il problema, tra virgolette, del discorso della strada, di cercare di fare la strada bella e quindi vogliamo avere la destinazione assicurata, quindi tendiamo a prenotare. Se si può prenotare senza dare caparra va benissimo. A noi a volte succede e quindi se non dobbiamo dare caparra prenotiamo tranquillamente. Il discorso invece quando dobbiamo dare la caparra perché abbiamo visto che siamo sempre un po' quelli dell'ultimo minuto, non sapevo mai dove andare e quindi non riusciamo mai a prenotare con largo anticipo. Quindi cosa facciamo quando dobbiamo scegliere una struttura? Apriamo Google Maps e scegliamo una zona. Quando abbiamo individuato una zona in cui vogliamo andare digitiamo appunto campeggi e vedere che strutture saldano fuori in quella zona lì. Le prime strutture che troviamo saranno sicuramente quelle dove ci sarà più gente, nel senso che sono le prime che appaiono durante una ricerca, quindi molto probabilmente sarà la prima scelta di molti. Quindi noi cosa facciamo? Zoomiamo e così da scoprire altri campeggi che non sono quelli che appaiono ma sono quelli un po' diciamo nascosti e forse lì riusciremo a trovare posto. Questo è quello che facciamo spessissimo quando andiamo sul lago di Garda. Infatti nel campeggio dove abbiamo fatto il nostro mese di forfè è un campeggio che quando si tende a cercare i campeggi sul lago di Garda non è una prima scelta e anche i campeggi lì vicino. Un'altra cosa che facciamo soprattutto quando ci sono ponti che lì la situazione diventa un po' più critica guardiamo nei gruppi facebook e lì riusciamo a avere un'indicazione molto importante perché riusciamo a capire le persone quale destinazione stanno scegliendo. Infatti nel weekend di Pasqua avevo visto sui vari gruppi che molti puntavano al lago, lago di Garda, lago Maggiore e quindi abbiamo depennato quella zona e ci siamo spostati verso il mare. Eravamo andati a Via Reggio. Infatti lì non avevamo prenotato nonostante fosse il weekend di Pasqua ma il giorno prima avevo chiamato la struttura, avevo chiesto come era la situazione, se c'erano piazzolle libere. Ho detto sì sì non c'è problema e quando poi siamo partiti alla sera, alla mattina, scusa verso due ore dall'arrivo abbiamo chiamato chiedendo se c'era posto e ci hanno detto sì non c'è problema. In ogni caso c'eravamo tenuti altre strutture. Quindi cosa succede? Quando non prenotiamo bisogna avere una mentalità un po' libera, bisogna trovare diverse strutture, ma non solo campeggi, magari anche agricampeggi e adattarsi e spingersi magari anche altrove. Magari puntiamo Via Reggio, ma non trovando posto si può scendere finché si trova posto. E più delle volte si trovano delle strutture che non avevi pensato di andare, vai perché non trovi posto e poi ti ritrovi un campeggio, un agricampeggio bellissimo. Quindi se non si ha proprio in mente di andare in un determinato campeggio in una determinata struttura, questo è un modo alternativo per andare in struttura e per fare vacanza. Noi ci troviamo bene. Anche per le vacanze estive abbiamo fatto così, non in Italia, ma l'anno scorso in Croazia. Abbiamo girato tre campeggi, avevamo prenotato solo uno, ma solo telefonicamente, senza andare a caparra, perché era quello dove facevamo più giorni, 5-6 giorni. E gli altri, invece giorno prima chiamavamo e trovavamo posto. In estate è un po' più critica perché noi abbiamo le centrali di agosto dove si muove un sacco di gente, però in Croazia abbiamo visto che bene o male posto si trova. Poi ogni anno è differente da un altro perché può essere che magari c'è un anno che vanno tutti nello stesso posto e quindi questo salta. Però generalmente con questo medito siamo sempre andati bene. Io vi consiglio di provarlo senza paura perché a volte si trovano dei posti veramente veramente belli e non si pensa mai di andare perché andiamo nel classico campeggio, nella classica struttura che tutti consigliano, ma a volte ci sono delle campeggine, delle strutture, diciamo nascosti che regalano veramente delle belle emozioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che il Weekend Rolotte sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like e iscriviti al canale. Ciao!